La comunità montana Valle Seriana sta lavorando per potenziare la rete di videosorveglianza sul territorio. A che punto siete? Vorrei fare una piccola premessa. È un lavoro molto importante, direi molto sentito dai sindaci della comunità montana e quindi abbiamo cercato di coinvolgere un momentino tutti in questa scelta. Le scelte sono state fatte in giunta e questa scelta è appunto quella di potenziare la rete di videosorveglianza per creare poi i presupposti per quello che riguarda poi la partecipazione anche dei comuni per quello che riguarda poi il discorso della sorveglianza dei vari territori, dei vari comuni. È un progetto, come dicevo, ambizioso. Il tecnico incaricato ha già fatto una ricognizione, ha visto tutto quello che abbiamo sul territorio. Quindi con i soldi, con le risorse a disposizione andremo praticamente a potenziare la rete di collegamento in modo che così avremo una rete più completa e riusciremo veramente a dare un servizio ottimale per quello che riguarda la sicurezza della Valle Seriana. È chiaro che tutto il sistema sarà collegato agli organi di pulizia, rispettando chiaramente il diritto di privacy, cioè la vita privata dell'individuo come sempre sarà salvaguardata ed è giusto così, però è chiaro che i titolari saranno i sindaci, le forze di pulizia. Come dicevo è un progetto ambizioso e qui dobbiamo ringraziare anche, ed è doveroso per ringraziare il Presidente Pedretti che è riuscito a trovare delle risorse aggiuntive, è riuscito in regione a trovare delle risorse aggiuntive e parte di queste risorse verranno utilizzate per completare proprio tutto l'intervento che dovrebbe oscillare sulle 250.000 euro. Come ripeto è una scelta che va sul potenziamento della rete, non va a risolvere, dovranno risolvere i comuni quello che è la sorvegliabilità nell'ambito del loro territorio, però è un'opportunità grande perché con questo potenziamento poi i comuni potranno collegarsi alla rete di videosorveglianza e avere una trasmissione immediata e completa dei loro dati agli organi di pulizia che potranno così intervenire in tempo reale. Come ripeto siamo nella fase di individuazione, abbiamo fatto alcuni incontri con il tecnico e stiamo arrivando a una sua presentazione di un progetto che dovrà essere condiviso chiaramente con i sindaci e con la giunta della comunità montana dopodiché si passerà all'affidamento dei lavori e alla realizzazione dell'opera che il mio auguro, considerato che la Varseriana ha bisogno di questo potenziamento, di questo grande servizio e si possa realizzare in tempi brevi anche e passare quindi alla fase pratica di realizzazione.